È un bambino tosto, è un bambino con una forza incredibile, è lui che dà la forza a noi. Dovrebbe essere il contrario, invece a volte magari mi vede triste, mi vede anche fare qualche lacrima e lui arriva con tutto il rotolo di carta igienica, tieni mamma. È un campione in tutti i sensi. Si può dire che siamo al giro di boa e speriamo di arrivare al traguardo proprio il prima possibile per farcela e realizzare questo sogno di Giovanni che è anche il nostro, quello di vedere Giovanni pienamente felice e poter correre come tutti i bambini. È un'operazione non comune, ovviamente. Non è comune assolutamente perché la fanno solo in Florida, la fa solo questo dottor Paley che ha una clinica a West Palm Beach e questo dottore lo sto seguendo, sto seguendo i suoi interventi da quando aspettavo Giovanni perché sapevo in 12 settimane che aveva un problema alla gamba non ancora quantificato però si sapeva per cui ho cominciato a documentarmi su tutte le possibili malformazioni che avrebbe potuto avere alla gamba, finché appunto quando è nato si è capito che cosa mancava realmente, infatti gli manca la tibia. La tibia. Sì, appunto io ho seguito questo dottore attraverso i suoi interventi e ho visto miracoli perché io ho visto un bambino in particolare che si chiama Bartek e è stato questo bambino a darmi la forza di portare avanti la gravidanza, la forza di credere che mio figlio un giorno avrà quello che è questo bambino e questo bambino è meno fortunato di Giovanni perché questo problema ce l'ha su entrambe le gambe. Fresca fresca di una settimana fa ha postato un video su Facebook dove lui cammina con la sua sorellina, cammina e piega entrambe le gambe e praticamente si può dire che per il mio punto di vista è perfetto. Bisogna proprio dire che si è mosso il mondo intero in poche parole perché è tanta solidarietà e tante persone che sinceramente non si pensava nemmeno che ci dessero una mano così però alla fine si è visto il risultato e ancora speriamo che ci aiutino ancora. Ancora Ancora